video numero 5 per quanto riguarda l'applicazione del calcolo dei limiti alla geometria analitica vediamo il primo esercizio considerare la retta r di coefficiente angolare m che interseca l'asse y nel punto p03 esprimere in funzione di m la distanza dm della retta dal punto q di coordinate 24 calcolare a il limite di dm per m che tende a più infinito e il limite di dm punto b per m che tende a meno infinito come prima cosa direi di farci una figura piano cartesiano punto p di coordinate 03 è qui facciamo una generica retta che passa per il punto p e che ha coefficiente angolare m quindi questa è y uguale mx e dovendo passare per il punto 03 dobbiamo aggiungere 3 poi disegniamo il punto 24 il punto q che è qui ora è venuto un po vicino ma insomma ci capiamo questo è p dobbiamo calcolare la distanza che vado a segnare in rosso che è questa esprimerla in funzione del coefficiente angolare della retta y uguale mx più 3 quindi di m e poi calcolare i limiti allora come prima cosa ci scriviamo la retta in funzione implicita quindi mx meno y più 3 uguale a 0 abbiamo scritto la retta così perché ora faccio un richiamo qui perché se consideriamo una retta generica ax più bx più c uguale 0 richiamiamo la formula della distanza punto retta come dicevo questa è l'equazione della retta generica qui chiaramente è y quindi se abbiamo questa retta scritta in questo modo il punto di coordinate x con 0 y con 0 la distanza punto retta è data da il modulo di ax con 0 più b y con 0 più c fratto la radice quadrata di a quadro più b quadro nel nostro caso la distanza scriviamola in funzione del coefficiente angolare è uguale a m per x con 0 qui stiamo considerando il punto q quindi per 2 meno y 0 che è 4 più 3 fratto la radice quadrata di x è m quindi m al quadrato il coefficiente di y è meno 1 meno 1 al quadrato più 1 e questa possiamo anche riscriverla come 2m meno 1 in modulo fratto la radice quadrata di m al quadrato più 1 per rispondere alle domande del problema dobbiamo calcolare il limite per x che tende a più meno infinito di 2m meno 1 in modulo fratto la radice quadrata di m quadrato più 1 ora il quesito a ci chiede il limite per x che tende a più infinito ma prima di studiare il limite dobbiamo capire come varia la quantità 2m meno 1 e quindi risolvere la disequazione 2m meno 1 maggiore o uguale a 0 2m meno 1 è maggiore o uguale a 0 quando m è maggiore o uguale a un mezzo e questo è il caso di quando x tende a più infinito e quindi possiamo riscrivere il limite per x che tende a più infinito di togliamo il modulo la quantità è positiva e il limite da risolvere è limite per x che tende a più infinito di 2m meno 1 fratto la radice quadrata di m quadro più 1 qui possiamo raccogliere a fattor comune un m quadro sotto la radice e scrivere limite per x che tende a più infinito di raccogliere a fattor comune anche m al numeratore e quindi abbiamo m che moltiplica 2 meno 1 fratto m fratto raccogliendo a fattor comune un m quadro sotto la radice e portandolo fuori dovremmo scrivere il modulo di m ma siccome siamo per x che tende a più infinito il modulo di m è positivo possiamo scrivere m che moltiplica la radice di 1 più 1 fratto m al quadrato ora m ed m si semplifica 1 fratto m va a 0 come anche 1 fratto m quadro va a 0 quando qui scusate ho scritto x per forza dell'abitudine ma chiaramente è m e anche qui avevo scritto x ma chiaramente è m dicevo quando m va a più infinito 1 fratto m e 1 fratto m quadro vanno a 0 e il limite vale 2 fratto radice di 1 cioè 2 vediamo il caso b caso b e quando m è minore di un mezzo quando m è minore di un mezzo togliamo il modulo e cambiamo il segno a entrambe i termini e quindi limite per m che tende a meno infinito di meno 2m più 1 fratto la radice quadrata di m quadro più 1 e questo è uguale al limite per m che tende a meno infinito di possiamo raccogliere a fattor comune un m al numeratore e abbiamo m che moltiplica meno 2 più 1 fratto m fratto raccogliamo a fattor comune come abbiamo fatto nel caso precedente m quadro sotto la radice lo portiamo fuori dalla radice dobbiamo indicarlo col modulo ma quando m tende a meno infinito il modulo di m è negativo quindi meno m salto qualche passaggio ma diciamo che dovremmo essere in grado di farlo e di capirlo abbastanza velocemente sotto la radice rimane 1 più 1 fratto m al quadrato ora qui semplifichiamo ancora m con m abbiamo meno riportiamoci il segno 1 fratto m quadro e 1 fratto m vanno a 0 quando m va a infinito rimane meno 2 fratto 1 cioè meno 2 vale a dire meno meno fa più 2 quindi sia per m che va a più infinito sia per m che va a meno infinito il limite è lo stesso e vale 2 secondo esercizio considerare l'iperbole di equazione x quadro fratto 4 meno y quadro fratto 9 uguale 1 sia r l'asintoto dell'iperbole che giace nel primo nel terzo quadrante indicare con p un punto dell'iperbole di ascissa x appartenente al primo quadrante con q il punto dell'asintoto r avente la stessa ascissa di p calcolare il limite della lunghezza del segmento pq quando x tende a più infinito bene riscriviamoci l'equazione dell'iperbole x quadro fratto e ce la scriviamo come 2 al quadrato meno y quadro fratto e anche qui 3 al quadrato 9 uguale 1 l'equazione della generica parabola in questa forma è x quadro fratto a quadro dove a è 2 meno y quadro fratto b quadro dove b è 3 uguale 1 sappiamo che gli asintoti in questo caso hanno equazione y uguale più o meno b fratto a per x e quindi possiamo calcolarci immediatamente l'asintoto che il problema ci dice di indicare con r del primo e terzo quadrante il coefficiente angolare deve essere positivo quindi sarà b fratto a vale a dire 3 mezzi x questo è l'asintoto da considerare facciamoci subito una figura questo è qualitativamente l'asintoto questo è il ramo di iperbole dobbiamo indicare un punto p nel primo quadrante avente ascissa la chiamiamo x con p questa qui quindi un punto q sull'asintoto che ha la stessa scissa del punto p e quindi disegniamo la verticale per p che incontra l'asintoto nel punto q il problema ci chiede di calcolare il limite quando x con p tende a più infinito della distanza pq ora per calcolare pq devo fare la differenza delle rispettive ordinate l'ordinata di q appartiene alla retta r che è l'asintoto e quindi avendo chiamato x con p la scissa di p e di q la ordinata di q sarà uguale a tre mezzi x con p per l'ordinata di p devo prima esprimere l'equazione della parabola in funzione di x e poi sostituire x con p facciamolo y quadro fratto possiamo scrivere anche 9 è uguale a x quadro fratto 4 meno 1 cioè y quadro uguale moltiplichiamo per 9 9 quarti x quadro meno 9 cioè ancora facendo la radice quadrata abbiamo y uguale più meno 9 quarti x quadro meno 9 sotto radice siamo nel primo quadrante del valore positivo e quindi possiamo riscriverci anche y uguale calcoliamo il minimo comune multiplo sotto radice che è 4 9 x quadro meno 4 per 9 che possiamo scriverci così sotto radice portiamo fuori dalla radice il 9 quarti che diventa tre mezzi e quindi abbiamo y uguale tre mezzi radice quadrata di x al quadrato meno 4 a questo punto sostituiamo x con p e quindi l'ordinata di p è uguale a tre mezzi radice quadrata di x con p al quadrato meno 4 ora abbiamo entrambe le ordinate che sottolineo una è questa e l'altra è questa possiamo scriverci il limite il limite per x con p che tende a più infinito di pq riscriviamoci anche pq è uguale al limite per x con p che tende a più infinito di tre mezzi x con p meno tre mezzi radice quadrata di x con p al quadrato meno 4 ora se facciamo tendere x con p a più infinito otteniamo una forma indeterminata più infinito meno infinito dobbiamo razionalizzare quindi riscriviamoci il limite possiamo raccogliere a fattor comune e fare uscire dal limite la costante tre mezzi di limite per x con p che tende a più infinito di x con p meno la radice quadrata di x con p al quadrato meno 4 questo dobbiamo moltiplicarlo per la frazione razionalizzante che è x con p più radice quadrata di x con p al quadrato meno 4 fratto x con p più radice quadrata di x con p al quadrato meno 4 moltiplichiamo i numeratori e abbiamo tre mezzi limite per x che tende a più infinito di x con p al quadrato meno x con p al quadrato più 4 avendo al numeratore la scomposizione di una differenza di quadrati e al denominatore riportiamo x con p più radice quadrata di x con p al quadrato meno 4 ora x con p al quadrato meno x con p al quadrato fa 0 e quindi possiamo riscrivere tre mezzi limite qui abbiamo x con p che tende a più infinito di 4 fratto raccogliamo a fattor comune un x con p al quadrato sotto la radice e quindi possiamo scrivere x con p più qui dovremmo scrivere il modulo di x con p quando portiamo fuori x con p al quadrato dalla radice ma siccome x con p sta tendendo a più infinito il modulo è proprio x con p positivo e quindi si scrivo x con p che moltiplica la radice quadrata di 1 meno 4 fratto x con p al quadrato uguale ora abbiamo ancora tre mezzi limite per x con p che tende a più infinito di raccogliamo a fattor comune x con p che moltiplica 1 più la radice quadrata di 1 meno 4 x con p al quadrato e al numeratore 4 uguale abbiamo tre mezzi che moltiplica 4 fratto infinito che moltiplica 1 più 1 e questo avendo a denominatore un più infinito è 0 quindi quando x con p cioè la scissa di p tende a più infinito la distanza pq tende a 0 questo potevamo aspettarcelo perché r rappresenta proprio l'asintoto dell'iperbole bene per questo video finiamo qui in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio condividete su vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale perché no in descrizione i miei contatti mail instagram facebook grazie un saluto a tutti e alla prossima